Venus McFly Trap E poi voglio dire che sulla giacchetta qua che è fatta tipo in jeans anche se non si vede ecco qua c'è scritto Eco Punk ecco ora si vede e questo è un teschietto e qua ci sono anche dei bottoni e non mi ero accorta perché erano nascosti vedete erano piegati così e poi voglio mostrare la borsa che ho detto che sia una borsa della spesa e adesso ho capito anche perché perché lei essendo una pianta ci tiene le cose Eco quindi è come se la borsa fosse E poi vi volevo mostrare una cosa su Robeca cioè che ha una rotella qui che gira e che piega il ginocchio in modo strano cioè non lo piega solo indietro ma anche in avanti E non so se è un difetto della bambola Beh adesso vi mostro che si può girare sia avanti che indietro Però comunque c'è le altre Monster High non lo fanno adesso provo a farlo Cioè non si piega Cioè io adesso sto tirando sulla gamba Su Venus E come su altre Monster High Quindi vi ringrazio di aver guardato il video Ed è solo per mostrarvi qualche particolare in più su queste due nuove Monster High Che arriveranno in Italia anche se non so in quali regioni Dal 12 agosto Quindi buona fortuna e vi auguro di trovarle perché sono bellissime E io preferisco Venus ma anche Robeca è bellissima Ok Va bene commentate e fate like Ciao ciao